Il progetto Grandi Vigne è l'esempio di come può essere proficuo e collaborativo la partnership tra piccoli produttori e grossi gruppi distributivi come la Finiper. Noi rappresentiamo dei produttori selezionati e rigorosamente controllati da tecnici esperti e produttori che fanno filiera, quindi non compriamo uve o mosti o vini esterni ma produciamo tutto all'interno dell'azienda, produciamo vini da uve biologiche ed abbiamo una partnership, esempio questo evento dove siamo direttamente noi produttori a parlare ai consumatori. Rispetto al passato quando solitamente il grande distributore schiaccia il piccolo produttore quindi chiedendogli condizioni di prezzo piuttosto che promozionali che spesso il piccolo produttore non può permettersi, questo invece è un progetto di collaborazione di territorio dove è il distributore anzi a chiedere al piccolo produttore una collaborazione più in termini di promozione, partecipazione a eventi come questo dove non è il prezzo o condizioni commerciali la discriminante ma la discriminante semmai è la qualità e la disponibilità del produttore a presenziare eventi del genere e a seguire determinati parametri in una sola parola è il prodotto e il territorio la discriminante e il punto di vantaggio di questa partnership.